Una sorpresa, però insomma, questo è anche il bello della diretta Ma certo, vedo Alessio ancora che ride, eh Alessio, quanto è bello Ciao Alessio, buon pomeriggio, Daniele buon pomeriggio Ma soprattutto buon pomeriggio al nostro ospite Moreno Avantini Ciao Moreno, buon pomeriggio Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio Allora, cerchiamo di sorridere Moreno raccontando Maurizio Costanzo Abbiamo Lorenzo Petrucci? Anche in collegamento a Piazza del Popolo? Non abbiamo, sì, no, fatemi sapere Almeno che, cioè così, diciamo Abbiamo i Vox Populi, delle persone che ricordano Maurizio Costanzo? Sì, Vox Populi Ci sono Signora, come mai è qui stamattina? Per rendere omaggio al dottor Costanzo Cosa ha rappresentato? Una cosa importante Io, seguendo le sue trasmissioni, Maurizio Costanzo c'ho sempre Era un periodo che non stavo bene Soffrivo di attacchi di panico, erano dieci anni e non riuscivo a trovare cura Non c'era ancora la vicitura attacchi di panico Ho visto nella sua trasmissione il professor Cassano E se sono qui, sono assolutamente certa che lo debbo a lui Grazie Signora, come mai hai scelto di essere qui stamattina? Per rispetto a un grande giornalista Io lo seguivo molto e quindi sono venuta È molto l'affetto Moreno con cui ricordano le persone Maurizio Costanzo A parte le persone che sono a lui vicine Ma proprio le persone del popolo, i telespettatori Sono affezionati alla figura di Maurizio Sai cos'è? Ci sono delle notizie che non si vorrebbero mai dare Notizie che non si vorrebbero mai commentare Sicuramente la morte di Costanzo è una di queste A di là del fatto che era uno di famiglia per tutti noi Perché entrava nelle nostre case Quando un personaggio tu lo vedi attraverso la televisione E lo vedi per così tanti anni E lo vedi per così com'è, così vicino Pensi sia immortale Quindi non ti aspetti che può capitare Anche perché poi ci sono state delle complicazioni a seguito di una sua operazione Però avevo 84 anni, quindi comunque anche una bella età insomma Però non ti aspetti che possa succedere E l'affetto della gente in questi due giorni è stato meraviglioso Oggi anche al funerale era piena piazza del popolo Nonostante comunque le condizioni mete avverse Le persone non si sono arrese E sono comunque andate a dare l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo Abbiamo più di 20 video, di 20 testimonianze Di persone che danno l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo Allora Moreno decidi tu in questo momento Ti spiego subito Decidi se vogliamo partire dall'argomento che a me fa più arrabbiare E che ha fatto più discutere negli ultimi giorni Assolutamente I selfie chiesti a Maria De Filippi al Campidoglio durante la camera ardente Oppure andiamo ad ascoltare le dichiarazioni Tanto rimarai ancora come a 45 minuti Sì, sto qua con voi Quindi o ce lo portiamo alla fine O ci leviamo subito il dente Vediamoci il dente Vediamoci il dente Le persone, gli italiani, intervistati da Thomas Cardinali questa mattina Fuori dalla chiesa degli artisti Pensano e hanno un pensiero specifico Riguardo quello che è successo E questo pensiero era chiuso in queste immagini Signora che ne pensa di quello che è accaduto ieri alla camera ardente Con i selfie richiesti da Maria De Filippi Con il ferro del marito a pochi metri Vabbè poverina lei che poteva fare Stava lì e ha accettato questa cosa che gli è stata richiesta e l'ha fatto Però certo la signora ne poteva fare pure a meno Aver rispetto anche di una persona morta lì davanti alla moglie Insomma è la signora che ha mancato di rispetto nei riguardi Maria si è comportata da signora È educata poi come sempre Io non la conosco però bene o male Da quello che vedo in televisione Ne ho preso una signora abbastanza per bene Cosa ne pensa di quello che è successo ieri alla camera ardente? Cosa ne pensiamo noi? Cosa invece non hanno pensato loro che hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi Io ne parlavo prima con il signore è stata veramente una cosa indecente Maria come sempre è stata una signora in quel momento Non ha potuto fare altro che prestarsi questi selfie Però è veramente vergognoso Non ha avuto rispetto del momento Di quello che stava accadendo Brutto 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 Pur di avere delle visualizzazioni farebbero di tutto e si è visto Certo non c'è l'educazione non c'è niente di più Ma poi tutti che facevano anche la foto solamente al feretro Un po' brutto È una cosa vergognosa Non ho parole perché È una tristezza È una tristezza infinita È una tristezza ne ho Sì Brutta cosa Brutta cosa Brutta Signora lei invece cosa ne pensa? Che la vanità umana non si è fermata neanche davanti alla morte Questa è una riflessione che mi fa male Perché veramente si arriva al colmo secondo me Maria è stata una signora Maria è sempre una signora Voi invece cosa ne pensate dei vostri Penso quasi coetanei perché tanti sono stati giovani soprattutto a chiedere questi selfie a Maria Beh allora innanzitutto è una cosa assolutamente oltraggiosa Non c'è assolutamente rispetto nei confronti di Maria Che bisogna dire è stata una signora come ha detto già la signora prima È stata una persona educatissima ma non c'è assolutamente rispetto Perché abbiamo visto i video Mi sarei magari non tanto stupita di persone giovani ma di persone di una certa età e qualcosa di oltraggioso e indecente Non c'è rispetto nei confronti delle persone Non c'è rispetto nei confronti del dolore di una perdita così importante Cioè non ci sono parole per descrivere questo gesto assolutamente Non c'è rispetto Le opinioni Moreno comunque sono tutte le stesse Ovvero tutti hanno espresso il loro disappunto nei confronti di queste persone Che hanno chiesto in un momento così delicato In un momento così commovente In un momento così di dolore per Maria De Filippi Appunto dei selfie Solo per apparire E c'è fuori la signorilità di Maria De Filippi Lì è stata lei una signora in un contesto totalmente difficile Perché pensate che lei era lì in rappresentanza appunto del marito Anche con immagine pubblica A stringere le mani alle persone che venivano a rendere omaggio alla salma del marito E magari manco le andava Perché magari dentro era distrutta Lo devi fare e ti arrivano due idioti Perché secondo me possono essere soltanto definiti come idioti imbecilli Che ti chiedono un selfie Ma si vede nella seconda persona che li chiede Perché poi questi due sono arrivati in coda Nella seconda con la ragazza Si vede proprio Maria che guarda l'assistente Per dire ma come è possibile E ci sono però due fidanzati Marito e moglie non lo so Due coniugi Dove lei chiede la foto e fa il selfie Lui stringe solamente la mano Ma meno male perché E questo già fa capire no Moreno Guarda i famosi cinque minuti di cui parlava tanto Andy Warhol Ci stanno proprio sfuggendo di mano In questo periodo di social network Di visibilità a tutti i costi Di esserci sempre e comunque Ormai abbiamo perso pure il senso del putore Anche perché io dico no Che tipo di sensibilità puoi avere te Se decidi di andare a rendere omaggio ad una salma E poi nello stesso tempo dai Stringi la mano alla vedova E le chiedi un selfie È premeditata È follia Eh ma è follia ragazzi Siamo d'accordo Io penso che tanti magari che sono andati appunto a rendere omaggio a Maurizio Costanzo Sono andati con l'intenzione di Di far il selfie Di far il selfie Di stringere la mano Di vedere Mara Venier che piangeva Insomma le scene comunque sono di estremo dolore E approfittare tra virgolette per avere della notorietà Allora guarda voi avete chiesto giustamente i pareri e le opinioni Al pubblico che era fuori la chiesa Però io che ho seguito il funerale Ahimè Molti cellulari c'erano anche oggi Mentre passava il feretro E per me è lo stesso livello Cioè nel senso Riprendere con un cellulare Perché poi? Perché ci fai? Lo metti poi dopo sui social? È bravissimo Solamente quello Io non lo trovo folle Quindi trovo eccessivamente folle Il fatto di andare a chiedere un selfie alla vedova Ma trovo altrettanto folle Che tu là fuori dici Non l'avrei mai fatto Però poi quando passa il feretro Tiri fuori il cellulare E fa la foto La trovo una foglia Non è neanche rispettosa Ma è assurdo ragazzi Da fuori di testa Abbiamo Lorenzo Petrucci Che è con noi Ci sta anche aspettando da un po' Lorenzo buon pomeriggio Direttamente in collegamento da Piazza del Popolo Ragazzi di nuovo buon pomeriggio Ultimo collegamento Lorenzo non c'è più nessuno Le persone sono andate via Insomma raccontaci anche l'emozione dell'uscita Del ferro di Maurizio Costanzo Sì esatto Ormai il funerale che è terminato da circa 40-45 minuti Erano intorno alle 16.30 Un aneddoto che volevo raccontare Non so se è stato già raccontato prima Che quando il ferro di Maurizio Costanzo è uscito Dentro dalla chiesa Che può entrare nella macchina A parte un lungo applauso Di tutte le persone Comuniche Che si trovavano Interno della chiesa Lorenzo ti richiamiamo Ti richiamiamo Lorenzo Abbiamo forse dei problemi di audio Comunque sistemati anche un po' tu meglio Lorenzo Magari si riesce sotto al portico Veniva molto bene il collegamento Ora forse un po' meno Risciamo a ristabilire Perché ti sentivamo un po' attratti Lorenzo Ringraziamo ovviamente Lorenzo Petrucci Della sua collaborazione Comunque Dell'apporto che ci sta dando Perché è lì in prima persona E comunque ci porta Nonostante noi non possiamo esserci sul luogo Dare anche a voi degli spettatori Insomma il commento L'emozione Raccontare questo aneddoto E non sentirlo bene Insomma non è meglio Meglio interromperlo Per riprenderlo Tra poco anche pensieri politici La politica poi racconta un pochino tutto Rende omaggio a tutto quanto E ovviamente le maggiori istituzioni politiche Nel nostro paese Hanno reso omaggio a Maurizio Costanzo Abbiamo sentito anche Giorgia Meloni Che ha detto Io sono stata più volte ospite di Maurizio Costanzo Certo posso non Non posso In te l'era età Esatto 17 anni Tra l'altro Quando era l'unica forza di opposizione Sì è vero Il governo fece un'intervista In un programma che si chiamava proprio L'intervista L'intervista di Costanzo Esatto Un format meraviglioso Meraviglioso Dove lui c'è Ecco in questi giorni L'hanno fatta molti rivedere L'intervista che fece a Maria De Filippi Ed è un momento meraviglioso Perché è un gioco di fotografie Di ricordi Ed è veramente uno dei momenti Forse più belli di quel programma Che poi tutti dicono Adesso il talk show costa poco Quindi si può fare Lo fanno tutti Eh ma in quel modo Fatelo voi Fatelo voi come lo fa lui Vai In quel modo non si replica Ma come fai? Anche perché era di una Passatemi il termine Tra un milione di virgolette Di una banalità Impressionante anche la scenografia Perché due poltrone rosse Esatto Facile facile Ma il tutto lo faceva Con quella figura E loro due Che chiacchierà Di Costanzo Di che parliamo? Guardi l'ho detto anche questa mattina Mi auguro che da domani Il teatro Parioli Che comunque è stato Il luogo dove si è registrato Il Costanzo Show per tanti anni A parte una piccola parentesi Agli studi Helios di Roma Poi è tornato Lui al Parioli Si è anche molto commosso Nella prima puntata Mi auguro che da domani Questo teatro Possa essere intitolato A Maurizio Costanzo O comunque quella Si Anche perché Sono stato al Parioli Nella scorsa primavera A vedere uno spettacolo Molto silenante Tra l'altro E alle spalle C'è proprio Un luogo enorme Gigantesco Ancora del Maurizio Costanzo Show Certo E quindi entrare lì Con la consapevolezza Che si è svolto In quell'aura Un rito sacro Che è quello del talk show Fatto da Maurizio Costanzo Che abbiamo già O comunque ospiti Illustrissimi Che abbiamo visto Tutti Lì è passata la tv Lì è passato non solo la tv Sono passate le istituzioni Sono passate Argomentazioni importanti A carattere sociale e culturale Non ci dimentichiamo Che lui Ha portato su quel palco Giovanni Falcone Esatto E la lotta poi alle mafie Ha bruciato anche la maglietta Di tutto ragazzi Lì è passata la storia Della nostra televisione Anche perché Se non sbaglio È proprio il programma Più longevo Della televisione italiana Esatto E per fare anche una parentesi Alla nostra realtà quotidiana Sono passati anche i social Perché abbiamo visto Grandi volti Della sfera Dei social network Anche influencer Con cui lui si era affrontato In maniera Molto naturale Era un salotto di casa Signori Mi scorderò mai L'incontro su quel palco Fra Silvio Berlusconi E Giulia Delellis Che Berlusconi le disse Con tutti i follower che hai Tu potresti far politica Saresti eletta Beh oddio E lui prese una panchina Per mettere Silvio Berlusconi Quello era già un cambio Di scenografia importante Andiamo a Piazza del Popolo Ragazzi Andiamo da Lorenzo Petrucci Per quell'aneddoto Che era rimasto in sospeso Vediamo un po' Lorenzo Ragazzi Spero che ora Mi sentiate Ok Ok Molto bene Allora sì Volevo raccontare un aneddoto A conclusione Del funerale Che si è concluso Intorno alle ore 14 Alle ore 16 e 30 Quando il ferretro È uscito dalla Dalla chiesa Per poi entrare Nella macchina A partire qui da Piazza del Popolo Oltre a lunghi applausi Di tutte le persone comuni Qua presenti in Piazza del Popolo Come sottofondo È stata ammessa anche La colonna sonora Del grande Maurizio Costanzo Show Lo spettacolo Condotto da Maurizio Costanzo Dalla 1995 Quindi un Diciamo Un omaggio Anche verso Il conduttore Mamma mia È impressionante Questo è veramente È da pelle d'oca Esatto Immagino Quella canzone Quella musica Quelle note Rimarranno proprio legate A questo programma Per sempre Anche ieri Maravini era domenica Ha aperto la puntata Proprio con Le note di Se penso a te Che questa canzone È appunto Suonata al pianoforte Da Franco Bragardi Impressionante Impressionante E c'è proprio un post E lei Un pardon Che post Ho letto Attraverso i post Diversi post su Instagram Che eravamo in diretta Noi La lettera Letta in chiesa Della figlia Dove dice proprio Starai organizzando Già un talk show Con il maestro Bragardi Alberto Silvestri La regia Ma devo dire Oggi è stato un momento Molto toccante Perché Valentino Tocco Che è stato Il cameraman storico Del Costanzo Show Prima E poi dopo Il regista Ha portato La bara Insieme Ai ragazzi Della agenzia Lorenzo Prima di salutarti Poi noi continueremo La nostra chiacchierata Con Moreno Amantini Qui in studio E vedremo anche Tanti contributi Fatti da Thomas Cardinani Il weekend Ti chiedo Quali personaggi Hai avuto modo Di intercettare All'uscita Sensazioni Dichiarazioni Anche se poi Oltre le lacrime Insomma Le parole Sono dette tante Ma come ultimo omaggio Allora Tante persone Del mondo Dello spettacolo Hanno voluto Dare un ultimo saluto Un ultimo omaggio A Maurizio Costanzo Tante persone Con cui Magari Maurizio Costanzo Aveva anche avuto Delle esperienze lavorative O che Per esempio Anche al Maurizio Costanzo Sciocco Come abbiamo Di poco fa Detto Abbiamo potuto Parlare con Con Enrico Brignano Che è stato Più volte Ospite Al Maurizio Costanzo Show Il comico Antonio Giuliani Paolo Rufini Quindi veramente Tante persone Molte scure In volto Pochissimi hanno Voluto parlare Perché comunque Maurizio Costanzo Oltre Io lo vorrei dire Oltre a essere stato Conduttore Giornalista In un certo senso Secondo me è stato Anche un talent scout Perché tanti Comici Tanti conduttori Televisivi di oggi E tanti comici Di oggi Sono partiti Proprio dal Maurizio Costanzo Show Quindi in un certo senso Chiamiamolo anche Un talent scout Dei VIP È vero il Maurizio Costanzo Show era Però Moreno Abbiamo visto anche Degli assenti Alcune persone Che hanno preferito Non prendere parte A questo ottimo omaggio A Maurizio Costanzo Fiorello Uno di questi Che ha fatto comunque Un ottimo omaggio Poi magari Lorenzo Chiediamo anche Abbiamo anche delle interviste Stamattina A Vivare 2 Ha fatto un omaggio Cantando poi Si è telefonando Ma ha fatto una sorta Di discorso Come se parlasse a Maurizio Allora io trovo Sia sempre molto soggettivo Ma anche nella vita Di tutti i giorni Non per forza Le confronti della personalità Andare O non andare A un funerale Io La vivo diversamente Per me andare Soprattutto per una persona Con la quale si è lavorato Si è venuto bene È un omaggio doveroso Però naturalmente Ognuno poi sceglie Quello che diceva Il vostro inviato È importante Perché al di là Dei tanti personaggi Che c'erano C'erano tante maestranze Tante persone Che lavorano dietro le quinte Perché non ci dimentichiamo Che Costanzo Fini anni 90 A primi 2000 Aveva fondato Una scuola di televisione L'esperienza che vi raccontavo Io l'altra volta Con il famoso La prima web tv E questo programma Con Raffaello Tonoi E Fannicadeo Dove io Ho avuto la fortuna Di partecipare La redazione Era composta Dagli allievi Di Maurizio Costanzo Quindi lui Ha creato veramente Tante persone Che oggi lavorano Nelle redazioni A livello autorale Dietro le quinte Ieri a Domenica Inn Ha parlato Stefano Castellano Che è stato Nella scuola Di televisione di Costanza E ad oggi È uno degli autori Di punta Di Domenica Inn Il suo lavoro Lo fa bene I numeri Danno ragione Lorenzo Petrucci Grazie per essere Stato insieme a noi Grazie mille Lorenzo Di averci dato Questa testimonianza Da Piazza del Popolo Penso che si sia bloccato Va bene Quindi comunque Lo abbiamo salutato Ma vedevo che annuiva Il momento in cui Parla della scuola Morena Insomma è così Allora io andrei Inizierei con Le digrazioni dei politici Inizierei proprio Da Giorgio Meloni Perché comunque La leader Di Fratelli d'Italia Non è voluta mancare In Campidoglio Alla Camera Ardente Insieme anche A Roberto Gualtieri Presidente del Consiglio Quindi ci mancherebbe È stato fatto Comunque molte figure Appunto della nostra politica Però con molto trasporto Giorgio Meloni Con molto trasporto Guarda Di un giornalismo Capace di dialogare con tutti Capace di capire Che alla fine La dimensione umana Delle cose È molto importante Perché lui era Sicuramente una persona Che aveva le sue idee Ma questo non gli impediva Di cercare di capire tutti E gli interessava Moltissimo il carattere umano Delle persone Non ce ne sono moltissimi Di giornalisti Che insomma Sappiano fare Quello che ha fatto Maurizio Costanzo In questi anni È stato un grandissimo Scopritore di talenti Era una persona Alla quale Piaceva anche Trovare in persone Che apparentemente Diciamo non avevano ancora Ogni volta che mi rintervistava Di recente Gli dicevo Ti prego non farlo Però alla fine Insomma Io avevo più o meno 17 anni E quindi È una persona Che ha attraversato Tanta parte Da nostra storia nazionale Che sapeva raccontarla Che aveva un suo Chiaro punto di vista Sulle vicende Per perdiamo Un grande giornalista Raccontava Giorgia Meloni Di come Le sue prime Apparizioni televisive Furono proprio Il Maurizio Costanzo Show Al teatro E lei raccontava Anche Io ho fatto Alcune interviste Da lui Quando ero ancora giovane Ogni volta Che ritornavo Al Maurizio Costanzo Show Lui le riproponeva Io lo pregavo Lo imploravo Di non mandarle Perché comunque C'era una Giorgia Meloni Ancora Molta acerba Rispetto alla donna Venerdì non abbiamo parlato Troppo Secondo me Del Maurizio Costanzo Show Facciamolo Apriamo una parentesi Dedicata a quel programma televisivo Che è uno dei programmi televisivi Era Diciamo Apriamo anche questa Parliamo della storia Vabbia con Maurizio Vabbia con Maurizio Ma proprio Se non sbaglio O venerdì o sabato sera Adesso non mi ricordo Perché poi questi giorni Quando accadono queste cose Non sai mai Sono andati in onda Due puntate speciali Figlie del Costanzo Show Perché poi il Costanzo Show Nasce con la formula del talk Sul palco del Parigi Olli con tanti ospiti Nel tempo Lui si è inventato L'uno contro tutti Che è stata questa formula Meravigliosa Dove sul palco C'era solo un personaggio E in platea C'erano tanti altri personaggi Che lo intervistavano E se vogliamo Lo criticavano E ha portato tutti All'uno contro tutti E poi Aveva fatto un'altra formula Per Diciamo Rendere omaggio A dei grandi Ancora fortunatamente Viventi all'epoca Perché poi questo è un paese Dove ci ricordiamo sempre dopo E fece questo omaggio Un paese bellissimo A Gasman Sordi E Monica Vitti E l'altro Ai famosi tre tenori Ovvero Raimondo Vianello Corrado E Mike Buongiorno E lo hanno riproposto Queste due puntate E io me ne sono viste Assolutamente tutte Ed è un consiglio Anche di visione Per chi vuole fare Questo mestiere Per chi adora La televisione Perché è veramente La Champions League Alla fine di coppa del mondo Allora Tra due minuti Noi abbiamo la pubblicità Tra due minuti Continuiamo a parlare Con Moreno Amantini Del Maurizio Costanzo Sciò Ascolteremo anche Altre dichiarazioni Ad esempio Quelle di Beppe Fiorello Quelle che abbiamo detto Di Pierluigi Diaco Le sue lacrime Abbiamo visto tra l'altro Anche un Amadeus Provatissimo Molto Oggi Durante una Maravenier Che ieri comunque Ha avuto veramente Carlo Conti Panariero Guarda quello che ha fatto Ieri Mara Io l'ho anche scritto Pubblicamente oggi Non era facile da fare Perché spesso e volentieri Quando si parla O si rendono degli omaggi A dei grandi personaggi Si rischia di entrare Nella retorica E magari tutti gli ospiti Che vengono coinvolti Dicono più o meno Tutte le stesse cose Quello che hanno fatto ieri Maravenier E tutta la squadra Di Domenica In È stata veramente Forse una delle pagine Più belle di televisione E l'omaggio più vero A Maurizio Costanzo Anche perché tra lui e Mara C'era un affetto Che durava nel tempo E comunque Prima parlavamo di un'Italia Che è un paese vintage Ci piacciono Amarcord Io lo definisco Perché nell'Amarcord C'è la qualità C'è la qualità C'è poco da fare È vero Quella è la realtà Va bene Possiamo rubacchiare Un minutino alla pubblicità Lo possiamo lanciare adesso Così dopo abbiamo tutto il tempo Per poter fare un bel discorso Con Moreno Mantini I nostri ospiti Aspettiamoci nella nostra regia Possiamo Andare La pubblicità Qualche secondo d'anticipo E poi torniamo qui A tra poco Per poter fare un bel discorso